Lillo Vaccaro, regista del film Caruso, una storia di Sicilia, cosa ne pensi di Narrando? Una spinta maggiore a tutta la gente che è di Naro, quindi cercare di portare qualcosa sempre di nuovo, di ludico, di qualsiasi cosa sia necessaria per far sì che la gente riesca di nuovo ad uscire, a comprare e ad ammirare tutto quello che c'è a Naro perché c'è tanto da ammirare e per me questo è Narrando.